Cari amici Liguri e soprattutto cari amici Savonesi che dovrete tornare a votare di qua a una decina di giorni, non questa domenica ma quella ancora dopo per il ballottaggio nella vostra città. Non ho ancora fatto con voi direttamente alcune considerazioni sulla tornata di voto che abbiamo appena passato e ci tenevo a farle, avrete letto sicuramente commenti, avrete letto retroscena, avrete letto anche forse qualche mia dichiarazione ai giornali ma siccome il rapporto con voi è sempre stato diretto, franco, spontaneo, ci tenevo a farle direttamente con voi alcune considerazioni soprattutto per coloro che non sono andati a votare e che la prossima domenica saranno chiamati ad un ballottaggio importante a cui non devono rinunciare. decidere il proprio futuro con il voto è importante, decidere il proprio futuro con il voto è qualche cosa per cui i nostri nonni, i nostri genitori hanno lottato in questo paese, lasciarlo scegliere a qualche di un altro per te, a gruppi più organizzati o a persone che ne hanno più voglia ritenendo che tanto non cambi nulla credo che sia di fondo sbagliato. Quindi il mio appello prima di tutto a tutti voi è andare a votare, andare a votare, scegliete, scegliete con la vostra testa, non lasciate che siano altri a scegliere il futuro di questa regione e della vostra città per voi. Tutte le volte che hanno scelto altri in questa regione ahimè le cose non sono andate come dovevano andare. Io credo che ci sia stato ancora un racconto sbagliato su questo voto. Ho letto retroscena di un centrodestra diviso e il nostro centrodestra è un centrodestra plurale, certamente non è una caserma in cui si discute ma lo facciamo alla luce del sole, lo facciamo davanti a tutti, ognuno con le proprie idee e trovando una sintesi come abbiamo fatto dal 2015 quando abbiamo cominciato a governare questo territorio con tutta la fiducia che i cittadini ci hanno dato. E sento parlare di un modello di unità del centrosinistra ritrovato, anche questo francamente trovo che sia qualche cosa di surreale da descrivere. Certo un centrosinistra si è rimesso insieme per brama, voglia di potere, dopo tanti anni di dieta un centrosinistra che era abituato in questa regione a decidere, a fare il bello e il cattivo tempo, esponenti che avrebbero deciso tutto delle vostre vite, oggi si sono ritrovati mandati a casa dai cittadini e pur di far questo sono pronti a tutto, sono pronti addirittura a farsi guidare in questa regione, e lo sapete bene, da un ex giornalista del Fatto Quotidiano, quella gazzetta dell'invidia, dell'odio sociale, delle manette, quella roba lì, che peraltro ha passato la vita a parlare male di loro, ma adesso sono nelle liste insieme e dicono anche che andranno d'accordo, quale accordo possano avere mai trovato alle spalle dei cittadini francamente mi risulta improbabile da comprendere, però questo è quello che vorrebbero farvi credere, ma solamente ovviamente credere, perché io non posso credere che una sinistra con la storia di riformismo, del lavoro, della meritocrazia, della sinistra storica di questo paese, di questa regione, possa oggi sentirsi rappresentato da una vario pinta banda di giustizialisti moralisteggianti che francamente con il mondo del lavoro hanno davvero davvero poco a che fare. Parliamo di Savona, potete scegliere il vostro destino voi tra due domeniche. È possibile che la giunta precedente, che era una giunta nostra con un sindaco di centrodestra e degli amministratori che talvolta hanno fatto bene. Ricordo che Piero Santi, che oggi è stato indicato da Schiru come vice sindaco, dal candidato sindaco Schiru, è l'uomo che ha preso più preferenze in assoluto in quella città ed è l'assessore di quella giunta. Credo che tanti cittadini l'abbiano apprezzato. Certamente non ha potuto fare tutto quello che avrebbe voluto fare. Le mareggiate del 18, il porto devastato, il Covid che ha bloccato un anno e mezzo, anche qualche lite di troppo ci mancherebbe altro e anche qualche inefficienza dovuta all'inesperienza probabilmente di troppo. Forse non sono riusciti a rimediare tutti i guai che avrebbero voluto rimediare, ma ricordiamoci sempre che hanno rimediato guai fatti da altri e allora io credo che sia sempre meglio chi cerca di rimediare i guai anche quando non riesce a farlo del tutto che non chi quei guai li ha creati e oggi si ripropone con una giacchetta nuova per venirvi a dire che lui farà una città diversa da quella stessa che ha contribuito ad affossare nei vent'anni precedenti, affossare il sistema di raccolta di rifiuti, affossare il modello di sviluppo, metterla agli ultimi posti per turismo, perdere un'identità, perdere cittadini, perdere giovani. Tutto questo non è stato fatto dalla giunta che ha governato fino ad oggi e che ancora sta governando e che speriamo possa lasciare il passo ad un ottimo medico che a quella città ha dedicato la sua vita come professione e come uomo. Semplicemente ha cercato di rimediare quello che era stato fatto, se sono state aumentate alcune tasse perché altrimenti avrebbero chiuso gli asili nide, potrei andare avanti a lungo sui guai che avrebbero voluto rimediare e in taluni casi, visto che lasciamo orgogliosamente dopo cinque anni di amministrazione, un comune che esce dal predisesto dove l'avevano messo altri, tra cui alcuni esponenti che oggi si candidano come novelli vergini a tornare a governarlo, probabilmente essendosi accorto che oggi nelle casse del comune tornano ad esserci dei soldi da spendere che loro, come dire, a spendere, sono assolutamente capaci spesso a spendere inutilmente. E allora ho letto tutto questo e francamente talvolta non mi sono riconosciuto nel racconto che ho visto in buona fede, ovviamente dagli organi di stampa, dalle dichiarazioni prese talvolta in momenti concitati. Noi siamo sempre quelli che nel 2015 hanno presentato a questa regione un modello di politica diverso da quello di prima, un modello di politica fatto di impegno, senza privilegi, di sudore, di parti passate nella centrale operativa della protezione civile, di infrastrutture fatte senza tanti dibattiti. Siamo ancora quel gruppo lì, quei partiti, ma ancora più dei partiti siamo quelle persone. Sono io, Edoardo Rixi, Matteo Rosso, Carlo Bagnasco, Andrea Costa, i nostri assessori della Giunta, tutti gli amici di tutti i partiti, sindaci civici, Marco Bucci, c'è chi scrive che io litigherei con Marco Bucci, che non considero solamente il miglior sindaco d'Italia, considero un amico personale da sempre, una persona che ha salvato Genova dal disastro e che trionfalmente rifarà il sindaco per i prossimi cinque anni, non perché lo dice Totti, ma perché lo dicono i genovesi, che quando lo fermano per strada riconoscono in lui, una guida e una persona seria e capace. Siamo quel gruppo lì, siamo un gruppo che può avere fatto tanti errori, ma ha cambiato la politica di questa regione, ha fatto tornare la Liguria, orgogliosa di essere la Liguria, sulle prime pagine dei giornali, come modello politico e come modello di efficienza. Siamo un gruppo di persone che non ha mai aiutato un amico, un parente, che non ha mai scelto qualcuno perché fosse della nostra parte politica, ma lo ha scelto perché era capace. Abbiamo fatto tante cose dove non siamo arrivati e perché non ce l'abbiamo fatta, ce la faremo con il vostro aiuto nel prossimo futuro. Chi sono loro, quelli che si definiscono il nuovo? Quello che ho detto prima, una variopinta alleanza della sinistra, della sinistra estrema, dell'ambientalismo estremo, del giustizialismo estremo, che si è rivestito in astinenza da potere e da poltrone. E francamente credo che sia qualcosa di indigeribile, anche perché questa regione se l'è digerito fin troppo e gli è rimasto anche sullo stomaco. Oggi si spacciano per i cultori nuovi della meritocrazia, quelli che libereranno l'estro dei cittadini, poi domani saranno quelli che per avere qualche cosa vi chiederanno la tessera del loro partito, l'hanno sempre fatto, da noi non è mai successo. Quelli della libertà di impresa, perché è giusto che ci sia ognuno viva delle proprie risorse e poi sono gli stessi che da sempre vedono l'iniziativa privata e la libertà di impresa come qualche cosa di maleodorante, come gente che si arricchisce, magari con un dehors sul suolo pubblico che non dovrebbe avere o con uno stabilimento balneare perché una spiaggia non può essere recintata ad uso di qualcuno che ci specula sopra e potremmo andare avanti a lungo dove la burocrazia prevale sempre perché lo chiuto controllo della pubblica amministrazione deve sovrastare l'imprenditore e non lasciarlo libero di fare. Oggi dicono diversamente ma la storia è quella lì. Le infrastrutture oggi dicono che bisogna costruire delle città migliori, più belle contro il dissesto ideogeologico, quelli stessi che nel dibattito pubblico, nell'inconcludenza, nelle mille assemblee pubbliche hanno affossato ogni opera si facesse in questa regione. Oggi si stracciano le vesti per gli alluvioni che ahimè vengono con il centro destra e con il centro sinistra, con la differenza che grazie alle loro leggi non si può togliere un albero da un alveo del fiume. Tutte le volte che io vado in sopralluogo e io a fare i sopralluoghi ci vado, tutti i cittadini mi dicono ma perché non ci fate pulire gli alberi dei fiumi? Perché un certo ambientalismo che sta lì con la giacchetta nuova pronta a risedersi sulle sedie, gli alberi dei fiumi non li vuole togliere, così come non si può togliere la sabbia, così come non si può togliere niente. E a chi si straccia le vesti per gli alluvioni di questi giorni ricordo che da quando ci siamo noi la regione Liguria ha una protezione civile, gli assessori stanno nelle sale operative insieme ai volontari, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile e le regole funzionano. Ricordo anche che quando c'erano loro, quelli stessi che oggi si strappano le vesti per gli alluvioni, durante gli alluvioni si andava a teatro, si staccava il telefonino, non si dava l'allerta e ahimè talvolta la mattina dopo si andava a piangere qualche morto che non abbiamo pianto in questi anni. Credo che sia una differenza non da poco. Quindi questo è quello che avete davanti domenica prossima e che avete ad ogni elezione che si svolge in questo territorio. Quindi io solamente questo volevo dirvi a tutti voi per il rapporto che mi leghe, per la consuetudine che abbiamo con questo mezzo, che abbiamo utilizzato anche nelle giornate peggiore del Covid, io credo straordinariamente gestito dai nostri medici, dai nostri infermieri, dai nostri operatori sanitari, quando ogni giorno vi informavo di quello che accadeva in questa regione. E anche adesso vi chiedo come allora la stessa attenzione e lo stesso impegno, che è un impegno banale. Poi sceglierete chi volete, ma domenica prossima, non tra tre giorni, ma quella successiva, dopo esservi fatto un'idea di chi c'è di qui e chi c'è di là, dopo esservi fatto un'idea di che cosa vorreste per il futuro della vostra città e della vostra regione, che cose invece non vorreste per la vostra regione, dopo esservi fatto un'idea di chi vi ha detto le cose come stavano e chi invece vi ha raccontato cose che poi puntualmente non accadevano mai solo al proprio beneficio, ecco dopo essersi fatto un esame di coscienza e una serena riflessione andate a votare. Non possono decidere il 50% dei cittadini per un'intera comunità. Tutti devono dare il loro contributo di idee, di proposte e poi anche di voto e di consenso, perché questa è la democrazia. Una volta che avrete deciso col cuore in pace chi governerà, chi vincerà, siamo in democrazia, governerà, le città, le regioni e poi domani governerà questo paese. Ma non è possibile che a decidere siano in pochi, devono essere tutti i cittadini a decidere, dovete essere voi a decidere, dovete fare lo sforzo di assumere una responsabilità e stabilire dov'è il futuro, dov'è il nuovo, verso dove volete che vada la vostra regione oppure quello che non volete e non volete assolutamente per voi, per i vostri figli e per i vostri nipoti. Ci tenevo a dirvi queste poche cose, ma credo che siano importanti. Credo che siano importanti per evitare fraintendimenti, per evitare poi domani rimpianti e soprattutto per continuare a coltivare comunque vada quel modello di partecipazione che è nel cuore della nostra terra, che è stata la forza di questi sei anni che ha reso protagonista la nostra regione e tutte le nostre città, quelle che sono andate più avanti e quelle che dovranno andare avanti nei prossimi cinque anni per recuperare il tempo perduto. Buon pomeriggio a tutti.